Si sarebbe dovuto ricorrere alla violenza e alla deportazione. Ecco un pezzo di quel discorso. In un tempo in cui la Germania può espellere decine di migliaia di ebrei e l'Unione Sovietica vuole portare milioni di persone da una parte all'altra del continente, lo spostamento di pochi albanesi non causerà di certo lo scoppio di una guerra mondiale. Anche dopo la guerra, in quanto consigliere di Tito, premette per l'espulsione delle minoranze non slave in Jugoslavia come tedeschi, italiani, ungheresi e albanesi. Passiamo invece adesso a coloro che erano stati imprigionati a Theresien, in Bohemia. Anche in questo carcere le condizioni erano molto dure. I detenuti si ammalarono praticamente tutti. Il primo a soccombere fu nedio. La durissima vita in prigione gli aveva causato una gravissima tubercolosi che, combinata all'incuria dei medici di Theresienstadt, lo portò alla morte nella primavera del 1916 a vent'anni. Ciò che sappiamo sul periodo di nedio in prigione lo dobbiamo alla testimonianza di una guardia che lo descrisse come uno scheletro che camminava, che tremava in maniera incontrollata. Nessuno dei suoi parenti cercò mai di venire a trovarlo e addirittura alcuni di loro cambiarono il loro cognome, Ciabrinovich, per evitare di essere associati all'attentato. Successivamente toccò a Trifco, nell'autunno o nell'inverno del 1916. Anche lui era molto malconcio a causa del freddo e della fame. Lamentò dei dolori allo stomaco e venne portato in infermeria. Venne dimesso, ma poi venne ritrovato morto nella propria cella il giorno successivo. Secondo alcune fonti si era suicidato, ma molto più probabilmente morì di inedia, visto che l'ultimo ad averlo visto vivo, Ivo Kranicevic, l'amico di Vaso che gli aveva nascosto le armi, raccontò che praticamente Trifco non si reggeva più in piedi. Anche la salute di Gavro stava peggiorando progressivamente a causa della tubercolosi. Quando alla fine del 1915 seppe che la Serbia era stata invasa dagli austriaci, tentò di impiccarsi con un asciugamano, ma le guardie glielo impedirono e da allora venne tenuto costantemente incatenato e in isolamento ancora più totale. In questo periodo, nel 1916, Gavro ebbe alcuni colloqui con uno psichiatra, il medico militare Martin Pappenheim, che si trovava in servizio a Theresienstadt in quel periodo. Quanto sappiamo sulla vita di Gavrilo Princip, la sua infanzia, il suo carattere, lo dobbiamo agli appunti del dottor Pappenheim, che lo ascoltò pazientemente e senza giudicarlo nel corso di quattro incontri. Non sappiamo perché dopo il quarto non ce ne furono altri. Gavro parlò volentieri e si aprì con lo psichiatra. Gli raccontò dei suoi ideali, dei suoi amici, la passione per la lettura, delle sue esperienze. Gli confessò che la cosa che gli mancava di più in assoluto era leggere, perché non gli era permesso in isolamento totale. Durante uno degli appuntamenti, il dottor Pappenheim gli permise di prendere una penna e di scrivere. Gavro si riempì di gioia e confessò al dottore che erano due anni che non toccava una penna. Nel 1917 morì anche Lazar Jukic, il ragazzo che aveva presentato vasso a Ilic e che era stato condannato a dieci anni. Le dure condizioni del carcere compromisero irrimediabilmente la sua psiche e morì in un reparto psichiatrico. In questo periodo, le condizioni di salute di Gavro si aggravarono ulteriormente. Soffriva di tubercolosi fin da bambino, ma le dure condizioni di prigionia la fecero degenerare ulteriormente in una forma di tubercolosi ossea, particolarmente grave, che lo colpì alle articolazioni. Un dottore che lo visitò descrisse il ragazzo come ricoperto di pustole purulente sul petto e che non riusciva più a muovere il braccio sinistro. Nonostante la terribile situazione fisica, tutte le testimonianze concordano sul fatto che fosse ancora intellettualmente lucido e vigile. Non dimostrava segni di pentimento per ciò che aveva fatto e continuava a credere nei propri ideali. Negli anni finali della guerra, quando la sconfitta dell'Austria-Ungheria stava diventando sempre di più una realtà, molte guardie di etnia cieca iniziarono a trattare Gavro con un certo riguardo. I movimenti indipendentisti che avrebbero portato alla fine della duplice monarchia asburgica si stavano diffondendo sempre di più fra i soldati slavi dell'impero, che iniziarono a prenderlo in simpatia e a trattarlo più umanamente, aggiornandolo anche sul corso degli eventi. Nonostante fosse palese che il ragazzo non si potesse reggere in piedi, Princip era considerato ancora un detenuto pericoloso. Per questo motivo era sorvegliato a vista. Dentro alla sua cella vi era una guardia col fucile con la baionetta inastata e fuori dalla porta della cella altre due guardie. Vi erano perfino altri due soldati che dovevano stare sempre sotto la finestra della stanza per controllare che Gavro non si lanciasse. Nel frattempo la situazione del suo braccio sinistro peggiorava. I medici alla fine furono costretti ad amputare l'arto, ma non servì a nulla. Alle 6.30 del 28 aprile 1918, a poco più di sei mesi dalla fine della guerra, Gavrilo Princip morì di tubercolosi a 23 anni. Dopo la fine della guerra, i resti di Nedio, Gavro e Trifco furono rintracciati grazie a una guardia cieca che prestava servizio a Theresienstadt all'interno del cimitero del carcere e vennero tumulati anche loro nella Cappella Monumento di Sarajevo assieme agli altri congiurati. Di fatto, gli unici dei prigionieri che uscirono vivi da Theresienstadt dopo la guerra furono Zvian Stiepanovic, l'amico del piccolo Kerovic che aveva accompagnato Gavro e Trifco in carro a Tuzla e Ivo Kranicevic. Su Stiepanovic non sono riuscito a trovare informazioni. Mentre Kranicevic continua a vivere a Sarajevo dove morì nel 1968 a 73 anni. Il monumento agli eroi di Vidovdan, così viene chiamato, esiste ancora oggi e si trova nel cimitero ortodosso di Sarajevo dove venne eretto tra gli anni 20 e 30. Questo monumento, incredibilmente, ha superato in colume la Seconda Guerra Mondiale e le guerre di dissoluzione della Jugoslavia. Al suo interno sono sepolti i resti e di gran parte dei protagonisti di questa storia. Gavrilo Princip, Trifko Grabes, Nedeliko Ciabrinovic, Danilo Ilic, Veliko Ciubrilovic, Mishko Jovanovic, Nedio Kerovic, cioè il piccolo Kerovic, e suo padre Mitar, Jakov Milovic, il contrabbandiere, Marco Perin, Vladimir Gacinovic, l'ideologo della giovane Bosnia che viveva in Svizzera, morto in circostanze misteriose negli Stati Uniti nel 1917 e dopo aver servito da volontario nella marina francese durante i primi tre anni di guerra. Fra i resti che vennero trasferiti successivamente all'interno di questa cappella vi erano anche quelli di Bogdan Zeraic, colui che aveva tentato di assassinare il governatore austro-ungarico nel 1912 e che era un eroe e un esempio da imitare per i ragazzi della giovane Bosnia. Il monumento divenne uno dei simboli più importanti del neonato regno di Jugoslavia nel primo dopoguerra. Nella seconda metà del Novecento la cappella subì un periodo di incuria a causa anche del cambiamento di popolazione di Sarajevo conseguente alla guerra di Bosnia del 1992. Mentre prima la popolazione di Sarajevo, pur essendo a maggioranza musulmana, consisteva in una grande minoranza serba a circa il 40% della popolazione, dopo le guerre degli anni 90 i musulmani sono diventati l'80% dell'intera popolazione. Il cimitero ortodosso è stato quindi a lungo abbandonato e il monumento è stato ristrutturato appena nel 2019. Si conclude qui questo episodio speciale, che spero abbia potuto soddisfare la vostra curiosità a riguardo di questi personaggi che ci hanno accompagnato per così tanti episodi. Grazie mille per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo episodio.